Ma il suo mamma le diceva come dover non dare la felenza e dare la felicità. Ma lo sapeva, c'è già stato. Su internet. No, su internet. Ciao. Omore, omore, festeggiatemi. Diceva andateli a mangiare. Un'inquadratura speciale, la suggerisco io. Però la fai te. Quadratura? Eh? Dic. Dic, dic. Dic, dicam. No, alzati in piedi.